Buona e santa serata a tutti e un saluto affettuoso a ciascuno di voi singolarmente. Eccoci qui per invocare su ciascuno di noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre case, sui bambini, sui giovani, sui anziani, sui ammalati, la santa benedizione del Signore e l'aiuto materno della Madonna. Voglio darvi come meditazione per questa sera due punti. Il primo lo prendo dall'ultimo versetto del Salmo della liturgia di oggi che è appunto il Salmo 59 che è una preghiera che fa così Nell'oppressione vieni in nostro aiuto perché vana è la salvezza dell'uomo e altrove ci viene detto Beato l'uomo che confida nel Signore e quindi non confidare nell'uomo perché l'uomo oggi dice una cosa, domani cambia parola ti dice che non l'ha mai detta, ti volta le spalle anche se ci sono tanti uomini e tante donne buone che vivono gli insegnamenti del Vangelo e poi l'altra parola la prendo dal Vangelo stesso di oggi che è una frase che è un invito che è una raccomandazione che è un imperativo togli prima la trave del tuo occhio questo ci invita ad avere un amore fraterno caritatevole a non giudicare mai a non puntare in dito a non condannare e allora chiediamo al Signore e alla Madonna la benedizione e la loro protezione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen voglio augurarvi buona e santa notte voglio ricordarvi due piccoli impegni il 22 giugno alle 18.30 sono nella chiesa San Giovanni Battista lungo il corso di Catanzaro per celebrare la Santa Messa e la presentazione dell'ultimo libro aspetto tutti gli amici di Catanzaro e il 30 sarò a Bisceglie nella piazza di Bisceglie alle 19 e il 25 Simeri vede il primo ritiro spirituale della grande famiglia tanti vi siete segnati e aspettiamo anche tutti quelli che sono nelle vicinanze per venire a pregare con noi a partire dalle 16 buonanotte a tutti vi voglio bene sempre ricordatemi nelle vostre preghiere ah dimenticavo io sono il vero Don Francesco Cristofaro mi raccomando non fatevi truffare non date il vostro cellulare a nessuno e non scrivete a nessuno su Messenger perché io non ho il Messenger e non do il mio cellulare ciao a tutti